oh va meglio questa che quell'altra oh 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 perché è chiuso tiriamo su di qua con le mani comunque l'ha fatta precisa ha chiuso ma va là lo tiriamo su di qua buttala giù ma buttala giù che vai prima mi zica il culo indietro culo indietro non l'ha mai fatto quella motoria arriva 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 ma viene di qua eh si eh non è qua si ma che vuoi farla ammazzare come ho fatto tronco inviede eh